Oggi per noi non è una festa, è una giornata di mobilitazione, è una giornata di rabbia. Rabbia per i posti di lavoro persi, rabbia perché registriamo che i lavoratori, le lavoratrici lavorano sempre in modo più precario. E allora chiediamo a tutti oggi, e grazie a voi per il lavoro che fate, di dare spazio, di dare visibilità a tanti ragazzi, a tante ragazze che rischiano di diventare gli schiavi del terzo miliendone. Su questo noi dobbiamo ragionare, lo facciamo con la mobilitazione in piazza, lo facciamo attraverso la musica, anche per dare risposta a un mondo, a un settore che è rimasto fermo per tanto tempo. Riprendiamo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale e metti like a questa news. La Press Video, l'immagine in prima linea.